C'è un'amica parlamentare, una delle più famose di Brasile, Carla Samed. Hola! Si, Carla Samed, io sono brasiliana e italiana, ma io sono diputata in Brasile. Che tu sarai la prossima Presidente di Brasile, al posto di Bolsonaro, al centro-destra, sarai tu. No, bene. C'è questa possibilità. C'è questa possibilità che sarà la prossima Presidente. Io, perché io ho fatto ballando con le stelle, con la stella, e io sono una stella. Si, io anche sono ballerina. Eh si, vabbè un po'... Il sangue del Brasile. Feliz Natale e felici feste. No, 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 no